amici e grazie a Fra Michele con la tua disponibilità perché ci dai l'opportunità proprio a noi tutti di portare Mediugori nelle nostre case. Per noi pellegrini vivere il pellegrinaggio a Mediugori è una grazia immensa di cui quando ritorniamo nei nostri luoghi di provenienza sentiamo veramente tantissimo la mancanza. Quindi caro Fra Michele per noi tutti poter pregare e ascoltare riflessioni dagli amici che sono a Mediugori è veramente un dono prezioso di cui ti ringrazio con tutto il cuore a nome mio e a nome di tutti gli amici che ci seguono proprio per questa tua disponibilità che ci stai donando. E a proposito degli amici che ci seguono vi ricordo cari amici di attivare le notifiche e se potete condividere questa diretta così possiamo fare dono di questi momenti preziosi anche ad altre persone. Ringrazio proprio ognuno di voi che ci state seguendo perché è anche grazie a voi che facciamo comunità e unione di preghiera in un momento in cui il mondo più che mai è immerso nella confusione e nella conflittualità. Grazie a Dio ci sono molte persone che pregano. Purtroppo però ce ne sono tantissime altre che non lo fanno perché non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Allora noi tutti insieme attraverso le nostre umili e pubblici preghiera ovviamente con voi da Mediugori vogliamo fare ciò che la mamma celeste ci insegna pregare e intercedere per coloro che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio. E infine caro Fra Michele e poi ti lascio tutto lo spazio che meriti in questa diretta. Il tema di questa sera sarà i cinque sassi alla luce del cuore immacolato di Maria e del suo trionfo in particolare oggi che è la ricorrenza della Candelora. Il trionfo del cuore immacolato di Maria è la vittoria del bene su tutto il male che ci circonda e che sembra inarrestabile. In realtà dobbiamo fissare gli occhi a Maria certi che questo male passeggero mentre il bene di Dio è eterno. E partendo dai cinque sassi vorrei ricordare brevemente agli amici che ci stanno guardando quali sono i cinque sassi di cui ci ha parlato la Madonna Mediugori in tutti questi anni. La preghiera con il cuore, il rosario, l'eucarestia, la Bibbia, il digiuno e la confessione mensile. Ecco, caro Fra Michele, dopo questa breve introduzione tu che ogni giorno respiri l'aria e vivi l'aria di Mediugori e la preghiera ci puoi aiutare con le parole che ci dirai questa sera a camminare lungo il sentiero che ci sta tracciando la mamma celeste. Siamo qui ad ascoltarti. Innanzitutto vi saluto a tutti. Come il tempo è breve, noi invochiamo subito lo Spirito Santo, Spirito di Dio su di noi, su tutti quelli che ci ascoltano finché questo incontro attraverso il cuore della nostra madre possa portare frutto per noi e per voi. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Siamo qui ad ascoltare. Siamo qui ad ascoltare. Siamo qui ad ascoltare. Spirito Santo, vieni a noi con i tuoi ardori e con i tuoi doni. Vieni in fiamma i nostri cuori. Allora abbiamo la grazia che siamo qui in questo luogo santo, benedetto dalla presenza della nostra madre Maria ogni giorno, con la sua preghiera piena di grazia, piena di pace e piena di amore. Siamo pellegrini su questa terra. Siamo tutti che amiamo la Madonna, soprattutto quelli che stanno ascoltando, credo. Siamo i suoi cari figli. Non siamo i suoi devoti, ma siamo i suoi figli. Allora, attraverso questa grazia, attraverso la Vergine Maria, che è qui in mezzo a noi, chiediamo il dono della pace. Diamo la grazia che c'è anche la nostra sua benedetta. Allora, invochiamo il dono della pace nei nostri cuori, nelle famiglie e poi nel mondo intero. Come dice sempre Disca, se non abbiamo noi la pace del cuore, la nostra preghiera non arriva tanto. Anche se pregare va sempre bene. Allora, diamo questa grazia della pace nel nostro cuore. Allora, diamo questa grazia. 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 Allora, diamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voi figlioli siete la mia speranza. Pregate con me affinché si realizzi ciò che ho iniziato a Fatima e qui. Pregate e testimoniate la pace intorno a voi e siate uomini di pace. Grazie cari figli per aver risposto alla mia chiamata. Penso che ogni parola della Vergine Maria pesa caro prezzo. La Madonna è qui per la nostra vittoria spirituale. Le vuole portare tutti noi in paradiso. La vita qui sulla terra è un dono prezioso di Dio. Ogni giorno è dono di Dio. Perché tanta sofferenza? Quando parliamo della Madonna è volontà di Dio. Qual è la nostra missione? Qual è la missione degli apostoli della Vergine Maria? prima di tutto pregare. pregare ogni giorno. E' un dono pregare ogni giorno. Le parole della mamma celeste che mi toccano di più quando dice il mio cuore immacolato brucia d'amore per voi. Tutto a Međugorje è rotto intorno al cuore. Cuore di Dio, cuore della Madonna, i nostri cuori. Cosa sto capendo stando qui, questo luogo santo, che il nostro cuore è pieno di ferite? Tante ferite sono i nostri peccati. Tante ferite sono i nostri peccati che sanguinano, possono sanguinare il nostro cuore. Tante ferite possono essere i traumi, cose che abbiamo visto, sentito, abbandono, mancanza d'amore. Cosa ci propone il mondo per chiudere queste ferite? Eterno riposo. Cosa ci propone la Madonna? La Madonna, la pace nel cuore, che è dono prezioso di Dio. Madonna ci sta chiedendo, supplicando, di pregare il rosario. Il rosario è la catena, o meglio, è quel filo che unisce il cielo con la terra. Chi sana le nostre ferite è il Signore Gesù. E' quello che la Madonna, dopo vedremo brevemente, l'arma che il Signore ci sta dando in questo tempo, per avere noi la pace e per allontanare il male, che è sempre più aggressivo. Chi sana le ferite è il Signore Gesù. Quello che tante gente in questo tempo è disorientata, magari cerca l'amore nei posti sbagliati, perché la Madonna ha detto più volte, l'uomo moderno ha rifiutato Dio. Poveri figli miei, state mettendo voi stessi al posto di Dio. Signore Gesù è il medico, che guarisce i nostri cuori. Madonna è la nostra madre, ma anche l'infermiera, che fascia le nostre ferite e le presenta a suo figlio Gesù. Chi beve il mio sangue, dice Gesù, mangia la mia carne e avrà una vita eterna. Perché la Madonna appare tutti i giorni? E io credo. Perché è preoccupata. Preoccupata perché pochi, ha detto, vanno direttamente in paradiso. Pochi si preoccupano della vita spirituale. Tanti vanno in purgatorio. E tanti, numero grande, altrettanto grande, vanno in ferro. Una moltitudine. Stiamo vivendo un momento importantissimo. Importantissimo. E un'ora decisiva. Se guardiamo intorno a noi, vediamo guerra, sofferenza. Tutta la nostra generazione ha avuto la grazia di vivere cuore a cuore con la Madonna. Nonostante questo, l'umanità va verso la perdizione. Dobbiamo rinunciare. Rinunciare a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere. Dopo faremo una consacrazione al cuore immacolato di Maria. Il cuore è impuro sanguina. Ma la grazia di Dio è più dei nostri peccati. È più dei nostri peccati. Penso che la battaglia a cui siamo chiamati, certo che è una battaglia spirituale. Certo che a volte è estenuante questa battaglia tra bene e male che c'è dentro di noi. Tanto male dentro di noi. Tanto male viene dal mondo. Con le sue false luci. Tanto male viene da Satana. In questo tempo miete le anime. Vuole allontanare i cuori dei figli di Dio dalla grazia e dalla preghiera. Madonna è la nostra imperatrice, la nostra madre. È la madre di Dio. È la cosa ci propone la Vergine Maria. Consacratevi, cari figli, al mio cuore immacolato. Consacratevi ogni giorno. Il cuore immacolato di Maria è l'unico posto in questo mondo, diceva Padre Pio, dove il maligno, dove Satana non può entrare. In quel giardino pieno di grazia non può entrare. Per quello che noi dobbiamo rifugiarci nel suo cuore. Puro, santo e immacolato. Tanti peccati in questo tempo che macchiano. Non solo i corpi ma anche le anime. Per quello che dobbiamo accogliere l'immacolata concezione. Chiede la sua benedizione ogni giorno. Qui a Medjugorje la Madonna ci propone un cammino spirituale. Angela, parliamo un po' dei cinque sassi. E dopo vorrei dirvi alcune cose che vivo io. Attraverso questa vicinanza, questa preghiera ogni giorno che mi conduce al cuore della mamma. Al cuore della madre di Dio. Cos'è per me il cuore immacolato di Maria? Non voglio fare la teologia, ma voglio imparare con il cuore e dire cosa rappresenta per me la Madonna. Quando è apparsa in chiesa nel 1981, alla fine dei due rosari, è apparsa avanti all'altare. Non l'hanno vista solo dei leggenti, ma molti che erano presenti, compreso sacerdote, parrochi, che era padrioso. Madonna alla fine dei due rosari ha detto, grazie cari figli, grazie per la vostra preghiera. Pregate ogni giorno. Pregate ogni giorno. Pregate insieme. Pregate il rosario. Quando pregate il rosario, io sono con voi. Questo è il primo armo che la Madonna ci sta dando. Primo sasso, per far sì che il male si allontani subito da noi. Pregate il rosario, incessante. L'eucarestia. Non posso più vivere senza Gesù. Perché mi accorgo che sono cattivo. Ho bisogno del vero bene. Ho bisogno del sommo bene che è Gesù. Che viene vivo ogni giorno nei nostri cuori per la Santa Messa. Meggiugorio è il luogo dell'adorazione, della Messa. dove abbiamo la grazia di poter adorare Gesù ogni giorno. Con Maria, con nostra madre. Sempre tante persone. La chiesa è sempre piena. Tanti pellegrini che arrivano. Grande silenzio. Grande preghiera. Siamo pellegrini su questa terra. La nostra missione è quella di cercare Gesù. Le chiese da noi sono vuote quasi. Dobbiamo tornare a casa. Chi è stanco di soffrire deve tornare a casa. Per me la casa è la chiesa che mi ha accolto. Mi ha curato e mi ha protetto. Noi, in questo tempo, abbiamo tante critiche. Vogliamo che tutti, no? Sacerdoti, religiosi, nostro prossimo, siano tutti buoni con noi. Puri, santi, immacolati. Ma noi chi siamo? Quando Gesù ha detto, chi vede me vede il padre. Ma chi vede noi cosa vede? Le persone che ci incontrano cosa vedono? Senza Gesù non sarei più credibile davanti ai miei fratelli, davanti alle sorelle, davanti a tutte le persone che conosco. Perché porterei soltanto la mia umanità. E ho paura della mia umanità. Perché mi accorgo più ad avanti che il mio cuore tende, senza Gesù, tende verso il male. Questo mistero. Fare il bene costa, costa caro per me. Perché sempre è una lotta. Però so che arrivo a fine della giornata con la pace nel mio cuore. Madonna pianto quando ha detto avete dimenticato la Bibbia, parola di Dio. Padre Iosola ha insegnato come leggere la parola di Dio. Baccia Gesù quando apri la Bibbia. Parlami Signore che il tuo servo ti ascolta. Penso che in ogni parola di Gesù c'è tutto. Tutto il nostro presente, tutto il nostro futuro e anche l'eternità. Gesù è la via. Gesù è la verità e Gesù è la vita. Signore vuole che stiamo bene già qui sulla terra. Cosa sappiamo di Gesù nella sua vita pubblica? I tre anni. E' vero che Gesù parlava del paradiso, parlava del Padre, parlava della vita eterna. Ma prima di fare l'omelia si preoccupava di dargli da mangiare, di affamati, di guarire gli ammalati. Nel giugorio è l'incontro con Gesù, quello vero. E lo incontriamo attraverso Maria, nostra madre, che ci fa incontrare il Signore Gesù. Prima sulla croce, sul Crisevaz, questa esperienza del Crisevaz unica, via Crucis. Dopo facciamo l'esperienza di Gesù risorto in chiesa. Allora, leggiamo la parola di Dio. Il rosario è parola di Dio. Meditiamo attraverso Maria i misteri della vita di Gesù. Sai, tanti ridono quando vedono il rosario. Ma il rosario per me è dominio di me. Mi aiuta a riconciliarmi con i miei fratelli e con i miei sorelli. Mi dà la forza di andare ogni giorno alla messa. La parola di Dio mi dà la forza di desiderare Gesù non solo nella parola, ma anche sangue, anima e divinità. Il suo corpo. Quando prendiamo Gesù, Gesù viene vivo dentro di noi. Prima ascoltiamo la parola di Dio, poi accogliamo Gesù vivo dentro di noi. Digiuno. Madonna chiede questo digiuno. Pane e acqua, mercoledì e venerdì. È vero che ha detto, tutti devono e possono digiunare. Però qual è il digiuno, quello che fa più contenta di tutti la Madonna? Quando non pecchiamo più. Allora sarebbe bene, visto che siamo tutti peccatori, primo che sono io, offrire ogni tanto qualche piccolo sacrificio per ringraziare il Signore Gesù, perché è buono, perché è eterna la sua misericordia. Madonna mi chiede di digiunare per la pace del mondo, penso che è doveroso in questo tempo per chi può digiunare. La cosa più bella del digiuno, lo dico sempre, è il giorno dopo che puoi mangiare. Che apprezzi anche le piccole cose. Tante volte abbiamo ascoltato, non sappiamo un domani come sarà. Iniziamo a privarci di qualcosa. Guarda, i poveri già soffrono, i ricchi un po' di meno, ma soffrono anche loro. I giovani tantissimo, dopo vi dico di un giovane. I genitori soffrono anche loro. Per questo è che dobbiamo cercare in tutti i modi di riconciliarci tra di noi. Giù le maschere, diceva Padre Slappi. Siamo a dire agli altri, ti voglio bene, grazie, sei importante per me. Che sia allontanato da noi il nostro orgoglio, il nostro superbia. Oggi siamo insieme. Ogni secondo, minuto, ora che viviamo su questa terra, è grazia di Dio. Il digiuno mi dà la forza quando riesco a digiunare. Tante volte sono talmente miserabile che non riesco a rinunciare anche al cappotto. Questi siamo noi, questo sono io. Però so che il Signore guarda il mio cuore. Signore, possiamo mentire davanti agli uomini ma non davanti a Dio. quello che ogni mattina quando mi sveglio e mi faccio signore della croce. Dico grazie Signore. L'anima mia magnifica Signore. Signore mi dà la possibilità. Dio è la vita e la vita è Dio. non posso più andare nel mondo senza la croce, senza la confessione. Non aspetto il peccato grave. vi vado a confessare prima. Siamo in un momento molto delicato. Non sappiamo se abbiamo la forza di rialzarci davanti alle cadute. per questo che il mio impegno, l'impegno che ho preso, non solo davanti alla Madonna, non solo davanti a Gesù, ma anche davanti a me stesso. L'impegno di lottare per rimanere nella grazia di Dio. Penso che è questo che chiede Gesù. Lottare affinché sia allontanato da me tutto quel male che vuole allontanarmi dalla grazia, dalla preghiera. Cari figli, vi invito alla conversione individuale. Questo tempo è per te. Per me piace leggere al singolare il messaggio della Madonna. Caro Michele, ti invito alla conversione individuale. Prima mi devo convertire io. Poi posso pregare per la conversione degli altri. Questo tempo è per te. Senza di te il Signore non può realizzare ciò che vuole. Cresci di giorno in giorno attraverso la preghiera sempre più verso Dio. Accostiamoci al cuore della mamma, della mamma celeste. Rimettiamo tutta la nostra vita nelle mani della Madonna, senza alcuna riserva. in questo modo tutto quello che siamo, tutto quello che facciamo viene offerto a Dio attraverso il suo cuore. Puro, santo e immacolato. Quello della Santissima Vergine che è da sempre simbolo della purezza, della preghiera, del sacrificio e della bontà. la nostra madre piena di bontà che versa lacrime di sangue per noi. Ma è la Madonna che è duemila anni che intercede per noi. Guarda, è venuta da morirci per l'ultima volta. Cartellino giallo. Non è venuta da morire l'umanità. Chiede che il mondo intero si converta, che accolga Gesù, che si converta a Dio, onnipotente. I veggenti a Fatima hanno avuto quella visione dell'inferno, del paradiso e il purgatorio. Qua ci dicono, ci raccontano i veggenti, in particolare la rivista, che sono andati fisicamente. Guardate, ha detto, ditelo a tutti. La vita continua. Siamo solo di passaggio su questa terra. Siamo solo di passaggio. Leggete, mi ha raccontato più volte che hanno visto questa parte. Hanno sentito. Ne hanno visto. Paradiso. Indescrivibile. Non si può raccontare. Con le parole, dice Iacomo. È una sensazione che ha avuto dentro di lui, che non riesce a dirla agli altri. Paradiso è dentro di noi. Chiediamo la grazia di desiderare la vita eterna. Purgatorio. Così a fare di tutto per non andare in purgatorio. Già stiamo facendo su questa terra. Io, per esempio, chiedo la grazia ogni giorno di poter andare direttamente in paradiso. Direttamente in paradiso. Come il buon ladrone, però. Signore Gesù, peccatore sì, ma ricordati di me come sarai nel cuore mio. Cosa ha detto Gesù a voi ladrone? Oggi sei con me in paradiso. Sto verso il rosario. Consacro la Madonna al tempo presente, ma anche il momento più importante, il momento della morte. quel momento non potremmo difenderci con le parole. Signore Gesù ci ama immensamente. I cuori di Gesù e di Maria bussano alla porta dei cuori. Ma non sentiamo i loro richiami d'amore quando il nostro cuore non è nella grazia e nella pace di Dio. Adesso io farei un breve canto e poi concluderei con una cosa sul cuore immacolato di Maria. Perché nel cuore della madre che trionferà c'è tutto il suo figlio Gesù. Il cuore di Maria è Gesù. È quello che trionferà. Però in questo momento dobbiamo fare nascente. Da che parte sto? Chi ci aiuterà? Quando magari il male arriverà all'improvviso? La mia preghiera, la fede, la consolazione, l'amore che la Madonna ha per noi ogni giorno. Dobbiamo decidere adesso da che parte stare. Pensate, sappiamo già chi vince. Possiamo puntare tutto sulla Madonna. Scegliamo la parte migliore che è Maria. Non rimarremo delusi. Ave piena di grazia, ave piena di Dio. Adesso invochiamo Gesù, il nome di Gesù, nel suo nome. Chiediamo questa grazia che sia allontanato da noi ogni male, ogni male che c'è nelle famiglie, ogni male che c'è dentro di noi. Nel nome di Gesù. Ogni ginocchio si piedi nei cieli, sulla terra e sotto terra. Chi crede in Gesù sarà salvato. Io credo. Io credo. Chi 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 credo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio condividere con voi quello che rappresenta per me, il cuore immacolato di Maria che viene in mio aiuto in questo tempo così delicato. La presenza della Madonna è una grazia unica per me. Vuole soccorri, vuole portarmi in paradiso. Lei è la piena di grazie. Vuole aiutarmi a condurmi a Gesù. Ma il mio cuore tante volte è chiuso, angosciato, tribolato. Non riesco ad accogliere tutti i richiami d'amore di Dio. Madonna mi invita a pregare, a sacrificarmi per la pace. Tante volte ci affanniamo in tante cose e non troviamo il tempo per Dio. Non ci preoccupiamo abbastanza della nostra vita spirituale. Il male avanza sempre di più. Trama odio e divisione. Madonna ha detto Satana mie delle anni, ingannandoci. Satana vuole l'odio, ma vuole anche la guerra tra di noi, divisione. Il cuore della mamma, puro, santo e immacolato, soffre e versa lacrime di sangue per quelli che la rifiutano. Il cuore immacolato di Maria è una porta aperta per il paradiso per me. Questa porta è aperta già qui sulla terra. La Madonna, nel nome di suo figlio Gesù, vuole che tutti noi passiamo da questa porta per il cielo. Lei è la chiave per aprire il cuore di Dio. Il cuore della mamma celeste è Gesù. Penso che è l'ultima e unica arma di salvezza per noi, per questa umanità. Ormai che è immersa nel peccato, che galleggia nel peccato. Il fuoco del divino amore, per grazia e misericordia, scenderà a bruciare tutto ciò che non sarà nella verità. Che non è chiaro e che non è limpido. Per quello che dobbiamo farci trovare pronti. Possiamo mentire a noi stessi, agli altri, ma non a Dio. La tristezza e l'angoscia e la paura magari invaderanno quei cuori che tramano decisi verso il male. Perché nulla sfugge dalla sapienza di Dio. Oggi il Signore mi mostra poco alla volta chi sono veramente. Poco alla volta, per misericordia. Ma magari nel tempo delle prove, quelle vere, se lo farà vedere tutto insieme. Non sappiamo. Guai, se non saremo preparati. Il cuore immacolato e dolorato di Maria è trafitto e circondato di spina. Nel vedere i suoi figli che rifiutano Gesù, schiavi del peccato e accettati da sapato. L'anima che cade, ma senza malvagità del cuore, solo per debolezza, dovrà sì purificarsi. Ma con l'aiuto di Dio, se lo desidera fuori alzarsi. Ciò che addolora di più il cuore del Padre è vedere i suoi figli che si ostinano nel peccato. Ostinati. Basterebbe così poco, anche un piccolo atto di pentimento sincero, per trovare la grazia presso Dio. Oggi è tempo di grazia. Cari figli, rinunciate a tutto. Consacratevi al mio cuore immacolato. La Madonna, anche nell'ultimo messaggio, ha detto sì delle cose importanti. Dobbiamo riflettere ogni giorno. Ma ha detto anche, cari figli, siete la mia speranza. Tante volte ha detto, so che non tradirete la mia presenza qui. Questo per me è aver incontrato la Madonna. Quindi a volte non diciamo la Madonna, ma dicevo nostra madre, Maria. Guarda, mi fa venire i brividi quando Maria racconta l'apparizione. Troppa è la grazia, la Madonna con noi. Però se volete possiamo fare la consacrazione, il suo cuore immacolato. Facciamo la preghiera insieme, poi se Angela vuoi farmi prima magari qualche domanda, poi concludiamo con la consacrazione. Sì, in effetti io volevo proprio dire questo perché vorrei che l'ultima parola di questa diretta sia la preghiera. E' proprio la consacrazione. Quindi finiamo di dire le riflessioni, tra l'altro grazie. Prima ho letto un messaggio di un'amica che ci segue, Lella Grazia. che ha detto a te, rivolta a te, bellissime le tue parole, Fra Michele. E' sempre un piacere ascoltarti, riesci a portare la pace nei cuori. Ecco, io ho riflettuto e ho detto, certo, Fra Michele porta la pace nei cuori delle persone che ci ascolta, ma perché porta le parole di Maria? Perché Fra Michele è alla scuola di Maria. E questi semplicemente sono gli insegnamenti che Maria ti ha dato. E tu che le hai accolte riesci a trasmetterci quell'amore. E l'umanità veramente in questo momento di follia, veramente come la Madonna ci dice a Mediugori, l'umanità sta andando verso il baratro perché ha voltato le spalle a Dio. Ecco, se l'uomo ricordasse che l'unico vero motivo, perché noi siamo vivi qui sulla Terra, e proprio per salvarci, perché come dice Vizca, Mediugori, qui siamo passeggeri, la vita eterna è quella che verrà dopo. Ecco, veramente dovremmo correre solo e unicamente per salvarci. E io veramente da poco, seppure è anni che vada a Mediugori, ho fatto una scoperta immensa nella preghiera. E' un'esperienza che veramente il Signore mi ha fatto, penso, proprio come dono. perché sono riuscita un giorno proprio a pregare sentendo che quel tempo di quella preghiera era il nostro tempo, il tempo mio e il tempo di Dio. E quella preghiera è diventata talmente bella. E se noi ogni volta che pregassimo, invece di dire meccanicamente il Padre Nostro e l'Ave Maria, qualsiasi altra giaculatoria o l'Italia, ma proprio quasi col dovere o quasi come imposizione, sapendo che è giusto farlo, ma non assaporando questa bellezza, se noi veramente riuscissimo a capire che quel momento è il momento più importante e sacro, perché in quel momento siamo noi e Dio, Cosa c'è di più importante al mondo? Nulla. E allora questa è una piccola riflessione che volevo condividere con gli amici, perché spesso noi, umanamente parlando, veramente facciamo fatica nella preghiera. Seppur sappiamo che è importante, ma non la gustiamo. La possiamo vivere veramente profondamente se veramente pensiamo che in quel momento la nostra preghiera non è buttata lì, nell'aria o nel tempo. È proprio un dialogo che abbiamo con il Signore. Allora veramente diventa tutta un'altra cosa. Sì, guarda, questa preghiera, soprattutto quando arrivi a fine giornata, no? Poi durante la giornata, Dio la grazia, beh, stanno in un convento che sono alla campana, sono alle preghiere, ma quando ti metti proprio tu da solo, cuore a cuore, dopo aver pregato anche insieme agli altri, perché non possiamo pregare sempre da soli, non va troppo bene. La lotta bisogna fare anche insieme agli altri, no? Però magari arrivi a fine giornata, che magari fa il tuo rosario, magari arrivi alla fine della giornata stanco, magari col cuore pieno di tante cose, ma quel momento, penso che è il momento più importante, no? A fine giornata, di rimettere tutto quello che abbiamo fatto in questo giorno e anche quello che non abbiamo fatto. Nel rosario posso ripassarmi tutti i miei doveri, tutti i miei impegni che magari ho tralasciato, attraverso lo sguardo della Madonna, mi insegna come si è comportato Gesù, cosa farebbe Gesù. La Madonna vuole che anche noi diventiamo tanti piccoli Gesù, Gesù, per quello che si chiama cari figli. L'altra sera pregavo, quando facevo le Ave Marie, vedevo che la Madonna mi aiutava anche a rimettere in ordine le mie idee, no? La Madonna c'è la ragazza del discernimento, di capire cosa che è giusto, cosa che è stato sbagliato durante il giorno, e i verloni se ne fanno tanti. Attraverso quel rosario che ho la forza di fare l'atto di dolore, la sera prima di andare a dormire. Se magari lo dici, tanto sono già andato alla messa, ho fatto quello, ho fatto l'altro, ho fatto la nuvela, ho fatto tutte le mie devozioni, ma qual è l'atto di dolore perfetto per me? Bacciare Gesù. sulla croce, prendo la croce e bacio Gesù, prima di andare a dormire, mentre gli do i baci che magari non riesci neanche più a pregare, però senti che puoi rimettere la tua vita nel cuore di Cristo, che è su quella croce. Poi è tempo di Natale, con Gesù bambino. Non possiamo avere paura di baciare Gesù bambino. Noi oggi abbiamo ancora il presepe, nei nostri conventi abbiamo sempre il presepe fino al giorno 2 febbraio. Oggi è un giorno importantissimo. Madonna, oltre che la presentazione di Gesù al Tempio, la profezia del vecchio Simeone, anche a te una spalla trafiggerà l'anima. Madonna, è apparsa tanti anni, a misurare due di ogni mese. Quello era un tempo. Appariva per pregare per i non credenti. Lei diceva non i non credenti, ma per i che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. È quello che noi ogni due del mese possiamo continuare questa preghiera. Perché la nostra preghiera non è solo per noi, ma può arrivare anche a toccare quei cuori, come mi ha insegnato Madre Rosaria, anche dalla cappellina, da quella cappellina che magari fai il sacrificio a stare, fai la lotta per entrare. però se siamo coscienti che da quella cappellina, dalla nostra stanza, dalla nostra parrocchia, possiamo aprire quei cuori che sono più, più lontani, che sono più in pericolo. Penso che questa è la nostra missione, quello che la Madonna vuole da noi. Assolutamente. Come magari anche la nostra conversione è stata grazie alla preghiera di intercessione di altre persone. Quindi se la Madonna Medigori per tanti tanti anni ha parlato di coloro che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio, non disprezzandoli, non dicendo quei figli cattivi o gli atei, ma proprio dicendo quei figli che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, ecco, siamo stati anche noi in passato e magari la nostra conversione è venuta grazie alle loro preghiere come giusto e doveroso che ora siamo noi a poter aiutare gli altri. E adesso, ho anche letto prima Antonietta Tarantini ha scritto grazie Angela spero di ritornare a Medigori ho bisogno di un po' di tranquillità. Proprio Medigori, perché io questa sera ho voluto fare questa diretta con te? Per far venire Medigori nelle nostre case. Proprio perché c'è bisogno più che mai di sentire queste parole di verità, questo spirito di verità. E per chi invece vorrebbe venire a Medigori e veremo poi anche da voi a trovarvi perché il mio primo passaggio delle comunità siete voi lo sai fra Michele perché per me ci dà tantissimo veramente ascoltarvi. Noi veremo a Medigori dal 17 al 21 marzo per il compleanno della Leggente Miriana saremo ospiti a Magnifica dalla Leggente Maria quindi se qualcuno volesse venire abbiamo ancora posti. E parlando della Leggente Maria mi viene sempre in mente una parola che lei dice alla fine di ogni apparizione perché poi andando lì abbiamo anche la grazia di poter pregare con lei spessissimo Maria alla fine delle apparizioni si rivolge a noi e ci dice io ho guardato la Madonna ma la Madonna ha guardato ognuno di voi quindi dobbiamo veramente essere presente che la Madonna ci guarda tutti con infinito amore e che la Madonna come dicono i Leggenti non lo dico io ascolta le preghiere di ognuno di noi allo stesso modo di come se ascoltassi i Leggenti perché siamo tutti profondamente importanti agli occhi di Maria e agli occhi di Gesù quindi quando preghiamo dobbiamo veramente assolutamente avere la fiducia che siamo ascoltati e come diceva la beata Chiara Luce Badano quando magari diciamo ah le mie preghiere non sono ascoltate in realtà no dobbiamo dire come diceva lei se lo vuoi tu Gesù lo voglio anch'io perché il nostro vero bene lo conosce solo Dio nel momento in cui noi facciamo ciò che lui ha predisposto per noi anche se ci appare umanamente parlando sofferenza invece in quel momento è la cosa migliore la cosa più importante per noi per la nostra crescita spirituale per quello che noi possiamo dare agli altri noi stessi e per la nostra salvezza se tu vuoi migliorare quello che ho detto fra Michele fai pure no migliorare no no assolutamente no nel senso spiegare meglio ma mi viene in mente mentre parlavi che mi sono sentito anche due o tre cose adesso una me la sono già dimenticata però di come veramente anche i giovani hanno solo in questa ricerca no ah ecco cosa volevo dire proprio attenti anche dei giovani mentre parlavi tu mi è venuto in mente che comunque a me piace leggerlo ultimamente il Vangelo con le promesse di Gesù no quello che Gesù promette che poi poi esce dalla sua bocca no quando dice in verità in verità vi dico ma abbiamo una grazia che il Signore è vero che la Madonna ci sta parlando no uno può credere o non credere ma il Signore Gesù ha parlato ha detto no quando è venuto un ragazzo che mi è venuto a dire più che a dire ad accusare no giustamente con la rabbia ferito no non ad accusare me no accusare eh voleva accusare Gesù ma dov'è questo Gesù di cui stai parlando perché tanta sofferenza io non ci credo ha detto come fa Gesù perché permette questi sono i giovani no che hanno bisogno di confrontarsi di confrontarsi parole dirette come mai Gesù permette allora che i bambini muoiano di fame permette le stragi permette che le famiglie e i genitori si separano ma cosa ha detto Gesù amatevi gli uni gli altri prima di morire l'ha detto ai suoi apostoli ultima cena amatevi gli uni gli altri come io amato voi quale sono l'ultimo uno degli ultimi desideri di Gesù amatevi gli uni gli altri come io amato voi se Gesù parlasse oggi cosa direbbe a quei giovani ma io ve l'avevo detto amatevi gli uni gli altri l'avete fatto no questo è il risultato questo è il risultato che senza Gesù il cuore dell'uomo diventa cattivo non riusciamo ad amare ci accontentiamo dell'amore umano ma manca quello divino manca quello divino un altro ragazzo dopo qualche giorno fa che ha detto eh ma a me mi hanno fregato tutti mi hanno imbrogliato tutti mi ha raccontato quello che era successo no abbandonato dai genitori abbandonato dalla fidanzata no gli ha detto ma vieni da Gesù che non ti abbandona mai non ti abbandona mai anzi delle volte più noi facciamo di tutto per allontanarci da lui qui scatta la consacrazione cuore immacolato perché consacrarci al cuore della mamma celeste non per devozione perché lei ha promesso ha detto il peccato regnerà ma se sarete miei trionferete quando dice se siamo suoi vuol dire che siamo tutti di Gesù che la Madonna è tutta di Dio è piena di Dio allora vogliamo fare una consacrazione per noi io consacrerei anche alla Madonna il tempo presente ma anche il tempo futuro questa è la preghiera che noi facciamo ogni mattina in comunità consacriamo al cuore immacolato di Maria tutto quello che facciamo in una giornata ma anche il tempo futuro consacriamo la nostra fede la nostra preghiera consacriamo tutti i pellegrini quelli sono raccomandati alle preghiere gli ammalati i poveri peccatori ogni mattina consacriamo la chiesa santo padre cardinani vescovi sacerdoti che arrivano a Međugari tantissimi io vedo sacerdoti inginocchiati davanti alla Madonna vescovi in ginocchio davanti alla Vergine Maria una volta tanti anni fa ridevano fuori dalla chiesa ero in ginocchio davanti alla Vergine alla statua certo allora due due ragazzi sentivo che ridevano guarda questo questo frate che si inginocchia davanti alla statua no adesso vedo i vesti in ginocchio ma io ti ho risposto così sai perché non mi vergogno di inginocchiarmi davanti alla Madonna davanti a mia madre perché tante volte mi sono inginocchiato davanti agli uomini metaforicamente però tante volte ci svendiamo per due lire davanti agli uomini per me indicare un po' d'amore anche per ottenere quello che vogliamo non posso vergognarmi di inginocchiarmi davanti alla Vergine Maria non posso non andare in chiesa e mettermi in ginocchio davanti al Santissimo Gesù Gesù è sempre sempre con noi sempre con noi vuoi la pace va in chiesa non c'è quella lucità rossa che è sempre accesa magari arriverà un tempo che non troveremo oggi è tempo oggi è tempo di riempirci di Dio allora consacriamo il cuore di Maria per poter essere come Gesù ci vuole sei d'accordo? assolutamente sì e lo sono anche tantissimi amici che ci stanno seguendo veramente grazie perché è importantissimo rimanere uniti nella preghiera grazie a voi che siete partecipando e grazie a te che ci stai dando queste parole allora prima farei questa preghiera che noi facciamo in comunità il cuore immacolato dove chiediamo il dono dell'unità tra di noi e poi facciamo la consacrazione proprio quella del monforte a Gesù per mezzo di Maria assolutamente dobbiamo essere tutti di Gesù tutti di Dio allora possiamo anche mettere dentro tutti quelli che anche lo stanno pregando con questa consacrazione il Signore vuole che tutti si convertano sia i buoni che i cattivi io sono cattivo per esempio quello che ho bisogno oggi stavo uscendo dal lavoro e sono entrata in chiesa nella chiesa dell'ospedale che normalmente non celebrano la messa e dentro c'era la messa mannaggia c'era messa sono arrivata in ritardo non lo sapevo e dovevo uscire presto perché arrivava a prendermi mio marito così a metà messa ho detto vabbè vado però volevo rimanere lì sono uscita mio marito non c'era che era addormentato così sono tornata a messa ho finito di prendere la messa ho detto il Signore è veramente grande e il sacerdote ha detto proprio questo preghiamo anche per quelli che non pregano il motivo per cui ho iniziato la diretta con questa intenzione anche io quindi veramente la comunione della preghiera ci lega tutti anche a distanza benissimo dai allora mettiamoci tutti nel cuore della nostra madre consacriamo le famiglie dove nella famiglia batte il cuore di Dio quello che sono così attaccate consacriamo tutte le famiglie che sono in difficoltà dove manca magari la pace c'è un po' di divisione chiedete perdono per non andare a dormire fate un piccolo atto d'amore no è negli atti d'amore che si manifesta il Signore Gesù negli atti d'amore allora noi primo atto d'amore chiediamo a Gesù che ci abbandoniamo tutto completamente al cuore della sua mamma allora lo facciamo con tutto il cuore con tutta la mente e anche con tutto il nostro fiato che abbiamo parole questa parola deve arrivare per mezzo della nostra madre al cuore di Dio allora questa è la preghiera per chiediamo il dono dell'unità e poi parto con la consacrazione ok perfetto vado sì o cuore immacolato di Maria fiacco l'ardente di carità ed amore intercedi supplica al cuore divino dico figlio Gesù per noi poveri peccatori così lontani dalla vera umiltà e totale donazione oggi ricorriamo a te che sei rifugio di pace e di consolazione ascolta nel profondo silenzio dei nostri cuori il grido d'aiuto soffocato dall'incomprensione portaci tutti alla vera risurrezione e fa che possiamo manifestare tutta quella grazia che a causa del nostro egoismo abbiamo seppellito con false illusioni madre noi siamo i tuoi figli ora e sempre amen amen ci consacriamo tutto noi stessi abbiamo detto consacriamo anche i nostri sensi sentimenti affetti tutto il nostro essere spirito anima e corpo consacriamo la nostra preghiera la messa di domani la confessione domani per una venerdì del mese nostra confessione ogni volta che ci confessiamo laviamo i nostri panni nostre anime del sangue dell'agnello chi sono costoro sono quelli che hanno sono usciti dalla grande tribolazione quelli che cantano santo 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 per l'eternità che hanno lavato i loro vesti del sangue di Gesù bocchiamo il sangue di Gesù e ci consacriamo al cuore della mamma allora facciamo questo non è vera di non farlo è venuta fare un'altra non voglio dire che dobbiamo fare questo va bene eh madre di Dio e madre nostra dolcissima io mi consacro a te consacro tutto me stesso cuori tutti i fratelli delle sorelle con tutto ciò che siamo tutto ciò che possediamo nostre famiglie nostre comunità i nostri cari familiari amici e anche i nemici al tuo cuore immacolato prendici sotto la tua materna protezione aiutaci a vincere le tentazioni che ci sollecitano al male e a conservare l'armonia tra di noi il tuo cuore immacolato sia il nostro rifugio e il cammino che ci conduce a Dio insegnaci a pregare e a sacrificarci per amore di Gesù per la conversione dei peccatori e la riparazione dei peccati commessi contro il tuo cuore immacolato per tua intercessione e in unione con il cuore del tuo figlio Gesù ottienici la grazia di rimanere sempre uniti a te e al suo amore e al tuo amore che è Gesù o cuore immacolato di Maria tabernacolo vivente della Santissima Trinità ci consacriamo a te insieme a tutta l'umanità nel nome del tuo amore chiediamo la benedizione materna della Madonna diffondiamola e fondi su di noi o madre tua potentissima e santa protezione e benedizione amè pari Grazie a tutti Grazie a tutti Buonanotte a tutti gli amici che sono stati uniti con noi in questa diretta e soprattutto nella preghiera Grazie, ci saranno ancora momenti di questi scambi di esperienze e di crescita e di preghiera Vi comunicheremo quando? Grazie a tutti Se potete condividete la diretta così altre persone possono ascoltare le parole di Fra Michele Buonanotte a tutti, grazie